Carissimi, finalmente è arrivato un campione di abbigliamento nazionale italiana, Chiatable Sport. Come guardate, questo è un campione che dobbiamo testare. Eccolo pantaloncini, scritta Italia, logo Federazione Italiana Chiatable Sport, logo World Chiatable Sport Federation, magliettina con logo sempre sul manico sinistra, World Chiatable Sport Federation, Federazione Italiana, strisci tricolore. Ecco qui, dietro scritta Italia, Real, sulla maglietta c'è anche riportato un logo, un specie di mano con Chiatable del nostro logotipo, come vedete, eccolo qui. Non resta niente, adesso una decina di giorni, testare e vedere come stanno questi maglietti, questo abbigliamento. Eccolo qua, mi metto vicino questo manichino, lui più grosso. Carissimi ragazzi, carissimi membri nazionali italiani, allenatori e istruttori, da tanto tempo che abbiamo messo in contatto con un'azienda per produzione dell'abbigliamento e finalmente si è sblocato poi la situazione del covid e stamattina è arrivato un fornitore portato primi campioni. Allora, primi campioni da testare, perciò io personalmente inizio a testare, ci sono ancora un paio di completi, con vari ragazzi di palestra, iniziamo a provare a testare questi magliettini, maglietti e pantaloncini e vediamo come va. Comunque, il tessuto è ottimo, ovviamente questi maglietti devono essere aderenti, maglietta 92% aspirabile, che aspira tutto sudore, da 92%, antiallergico, buon tessuto. Speriamo, dopo test vi faccio, vi tengo aggiornato come andrà. Comunque, sta sul corpo addosso abbastanza bene, tutto bello, abbastanza è aderente, questa maglietta non deve essere larga, questa magliettina ovviamente per jack, vi dico già come prima, anche vi pubblicavo già su Facebook, non va bene come questo tessuto, però, maglietta dall'uscita, maglietta da parata, maglietta da snatch, ovviamente ottimo, pataloncini senza nessun problema per qualsiasi cosa, saranno anche canottiere senza manico lungo, di colori ovviamente sempre quelli, al momento fornitore non ha portato, ovviamente bene questi maglietti specialmente per esercizi a snatch. Perciò testo, vedo come va, vi avviso a tutti e noi piano piano iniziamo a prendere ordini per, sperando il campionato del mondo mese di dicembre in Spagna, portare squadra con tutto questo bellissimo affigliamento. Bene, vi tengo aggiornato, grazie!